Buongiorno a tutti, sono Michela Varisellaz, faccio parte della Filarmonica Fianese dal 1992 e ne sono il presidente dal 2005. Adesso vi racconto un po' la storia della nostra associazione. La Filarmonica Fianese fu fondata nel 1852 per opere di alcuni fianesi, ex militari dell'esercito Sabaudo, che durante il servizio di leva aveva appreso l'arte della musica. La nostra è sicuramente una delle bande piattucchie del Piemonte e, grazie alla passione e della tenacia dei suoi componenti, non ha mai conosciuto momenti di interruzione della sua attività, pur avendo attraversato dei periodi bui come la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. La Filarmonica Fianese, meglio conosciuta dai fianesi come la banda musicale, ha accompagnato ed accompagna ancora tutt'oggi il paese in tutti i suoi momenti più importanti, dai servizi civili, servizi militari e quelli religiosi. La nostra associazione si fondica anche nel sociale, tenendo gli ormai abituali concerti, in altura, in case di cura e in centri per disabili fisici e mentali. Il nostro repertorio varia dalle classiche marce, da sfilata, ai più difficili e impegnativi brani di musica classica, dai midli di cantanti e gruppi famosi, alle colonne sonore dei film, primi, oltre all'esecuzione di pezzi originali per banda. Da diversi anni la Filarmonica ha attivato nella scuola primaria dei corsi di prepedeutica, per i ragazzi di 6-7 anni e corsi teorici-pratici di orientamento bandistico per i ragazzi che hanno dagli 8 anni in su. Oggi la banda conta circa 40 elementi, tra i quali molti minorenni, che contribuiscono ad abbassare l'età media a circa 30 anni. Infatti i più piccoli hanno solo 11 anni. Il nostro maestro è il professor Fulio Massabova, diplomato presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino ed è con noi dal 2007. La scienza ha scoperto che suonare uno strumento ha molti effetti positivi. Suonare rende più intelligenti, più socievoli, creativi e riduce lo stress. Quindi, se volete imparare a suonare uno strumento musicale, se volete stare in compagnia e crescere un ambiente sano, iscrivetevi ai nostri corsi. Per informazioni, filarmonica fianese, chioccioagmail.com oppure 338 76 58 346. Grazie!